Sono stati commessi crimini tra i peggiori del genere in Italia, sulla testa di decine di migliaia di persone. Le pubbliche autorità avvertirono Montedison dell'inquinamento delle acque dei pozzi e non i cittadini, le vittime. Questo è uno dei passaggi fondamentali in aula questa mattina del pubblico ministero a Narita Mantini durante la requisitoria nell'ambito del processo a porte chiuse in Corte d'Assise a Chieti sulla mega discarica dei veleni di busti sul Tirino. Una società esterna nel 1993 segnalò a Montedison la grave situazione di inquinamento sottolineando che le attività erano inadeguate proponendo investimenti sia per il risanamento che per lo studio degli effetti sulla salute. Su un appunto sequestrato riconducibile ai vertici Montedison rispetto allo studio e con riferimento alle vecchie discariche ci sarebbe stato scritto non ci conviene e quanto sarebbe emerso dei nuovi documenti illustrati in aula dalla PM.